Una storia infinita che si perde nelle campagne toscane della seconda metà del novecento. La terribile serie di duplici delitti del mostro di Firenze, 16 morti e una catena di misteri e fatti di sangue collegati fra loro dal 1968 all'85. Poi il silenzio. 35 anni fa, era appunto settembre, la pistola Beretta calibro 22 colpì per l'ultima volta. Teatro della strage, una piazzola immersa nel sottobosco a Scopeti, a pochi passi dalla strada che collega San Casciano Val di Pesa con Tavarnuzze. Vittime due turisti francesi, Nodim Moriot e Michel Cravequilì, che avevano montato una tenda canadese da pochi giorni in quella parte di vegetazione, con la loro auto parcheggiata a non più di cinque metri. La prima ad essere uccisa dal killer o dai killer fu la ragazza. Cravequilì ferito tentò invece la fuga nel bosco ma fu raggiunto vicino ad un roveto dove il suo corpo fu ritrovato il giorno dopo, era lunedì 9 settembre, da alcuni cercatori di funghi. La Moriot invece era dentro la tenda. Il mostro aveva nuovamente infierito sulla donna con le terribili scissioni del seno e del pube che avevano contraddistinto il modus operandi dell'assassino negli ultimi duplici delitti. Secondo i processi, lunghi, infiniti ed alcuni fra l'altro mai terminati, gli autori di questa mattanza furono Pietro Pacciani e Mario Vanni. Ma non erano soli quella notte a Scopeti, altri furono condannati per quei delitti. La scena del crimine fu gravemente poi inquinata dal numero di persone che giunsero poco dopo la scoperta dei due corpi. A distanza di 35 anni ancora non si è fatta luce su ciò che è accaduto in questa lunga striscia di sangue. Pacciani è morto in attesa del nuovo processo. Vanni fu condannato invece all'ergastolo, ma troppi sono ancora i misteri che crediamo non riusciremo mai a svelare. Ora, dopo una raccolta fondi su Facebook, a Scopeti c'è una lapide che ricorda la morte assurda di questi due giovani francesi.